Anche quest'anno, come tutti gli anni, con Alessandro andremo a fare le solite foto e video ai rally e abbiamo il solito problema di tutti gli anni, cioè riuscire a comunicare tra di noi senza far entrare le radio all'interno del video. Quest'anno vogliamo sperimentare le pot e quindi ci siamo comprati gli auricolari per le pot. Essendo l'ambiente rumoroso abbiamo provato a far arrivare una di queste, la proviamo, poi decidiamo se far arrivare le altre, che dovrebbe anche isolarci dal rumore esterno. Vediamo ora cosa troviamo qui all'interno della confezione. Allora qui c'è l'anzia di tre anni, libretto di istruzioni, qui c'è la cuffia e mi sembra che ci sia anche un cavo che penso sia quello per la ricarica. Ok, questo è il cavo USB che servirà appunto per la ricarica, mentre qui c'è la cuffia vera e propria. Qui ho i due comandi più e meno per l'audio e qui ho un terzo comando che vedremo se potrà funzionare addirittura come PTT, ma lo scopriremo quando collegherò il tutto. Ho volutamente preso una cuffia mono in modo che dall'altra parte l'orecchio rimane libero e riesco a sentire quello che mi accade intorno. Qui il microfono si può regolare, eventualmente lo posso anche proprio togliere. In questo momento della storia non so nemmeno se funzionerà, se sarà compatibile con le poche che abbiamo. Adesso metto tutto in carica e poi provo. Proviamo il tutto e vediamo se funziona. Allora, vedo che qui non c'è la possibilità di essere collegata con il cavo, quindi deve a forza funzionare in Bluetooth. Una delle paure è che con il Bluetooth non duri poi per tutto il tempo che ci serve. Qui in realtà me la dà come 11 ore in talking e 160 ore stand-by, quindi dovrebbe bastare e avanzare, però lo proveremo e vedremo se è vero. E perché poi l'altra questione è che comunque mi scarica più velocemente anche le batterie della POK. Però non esiste nulla, o perlomeno non ho trovato nulla che funzionasse col cavo, quindi speravo ci fosse un cavo per questo, in realtà non c'è e nulla proveremo. Ok, alla fine siamo riusciti a connettere le POK radio al dispositivo Bluetooth. Non riesco a far funzionare questo tasto Bluetooth. Forse con Zello potrei riuscire a farlo, ma non ci ho provato. Con il sistema che stiamo usando noi, che è quello di Enrico, non sono riuscito ad associarlo. Però posso tranquillamente usare il PTT dalla radio, che posso a questo punto tenere dove mi pare, basta che ho il PTT da poter schiacciare e riesco ad ascoltare e parlare da questa cuffia. Quindi direi che è tutto perfetto, il volume non è proprio altissimo, però va bene. Poi comunque c'è il discorso qua che è un pochino isola dai rumori esterni. Quindi direi che per quello che dobbiamo fare vanno bene. Adesso teniamo questa prima cuffia, facciamo le prove e poi eventualmente decidiamo se acquistarne anche altre oppure no. Adesso vedremo. Come sempre, un grazie a tutti voi che guardate i miei video, mettete like e condividete. Un ringraziamento va sempre alle aziende che mi danno una mano. Un grazie va anche agli abbonati. Con il loro aiuto sono riuscito ad acquistare un po' di cose che sto utilizzando per i video, come il microfono che c'è qui, la cuffia Bluetooth che sto utilizzando adesso. Quindi un grazie particolare a loro. E niente, ci becchiamo in aria o ci vediamo qui alle prossime.